Ben trovati al meteo. Sarà ancora perturbato sul nostro territorio, ancora a condizioni di maltempo. Il dettaglio di venerdì 12 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso e discontinuo più diffuse nel pomeriggio, ma improbabile diradamento in serata sulle zone dolomitiche. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso, in giornata piogge sparse e intermittenti, in genere moderate, con probabili rovesci o temporali su pianura e costa. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 15-17 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine che si attesteranno tra i 16 e i 17 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.